Hello friends! Siamo ritornati qui per un nuovo video. Oggi faremo la Yoga Challenge. Però solo nel prossimo video, quando saremo qui là, farò un video con un amico oppure con qualcun altro. Non perdiamoci in chiacchiere. Per questo video 14 like e se vi è piaciuto giù nei commenti. Cominciamo! Via! Questa è la prima immagine che andremo a fare. Aspettate! Aspettate! Così è? Aspettate! Ci sono riuscita! Passiamo alla prossima! La prossima immagine che andremo a fare è questa. Comunque non ve lo si fa. Quindi questi, così, chi lo riesce a fare? Aspettate! Non riesco a fare! No! Questo non c'è uscito! E... Passiamo al prossimo! Il prossimo è questo! Andiamo a fare... Andiamo a fare... Andiamo a fare... Andiamo al piedicolo! Andiamo al piedicolo! Andiamo al piedicolo! Andiamo a fare... Vabbè l'ho fatto Il prossimo Il prossimo è questo Facilissimo Ecco Passiamo al prossimo Questo Questo è difficilissimo ragazzi Chi lo riesce a fare questo? Chi lo riesco a fare? Ecco Il prossimo Questo è facilissimo Ascettate Ecco l'ho fatto Ascettate Ve lo faccio vedere meglio Avete visto? E passiamo al prossimo Perché io vado a scuola di danza E quello Lo riesco a fare Passiamo al prossimo La prossima è questa Via Ascettate che mi metto più per così Potrete vedere Fatto La prossima La prossima è questa Facilissima Ascettate L'ho fatta Questa è l'ultima E sarebbe questa Che è una delle più difficili Quindi Così Così La gamba così La mano Così Ok Per questo video I 14 like E Scrivetevi In commento Se vi è piaciuto Ciao Ciao